Si allontana dalla comunità arrestata dai carabinieri di Caltanissetta. Una casa di riposo di gel è stata chiusa dai carabinieri del nucleo antisofisticazione di Ragusa avrebbe esercitato abusivamente la propria attività. La processione di San Michele massiccia partecipazione dei nisseni. Carovana dell'economia circolare a Caltanissetta, manifestazione realizzata da Lega Ambiente in 12 comuni siciliani. Bentrovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di cronaca. Si allontana dalla comunità arrestata dai carabinieri di Caltanissetta ma sentiamo i dettagli nel servizio. Una donna di 36 anni originaria della provincia messinese è stata arrestata dai carabinieri di Caltanissetta e condotta nel carcere di Messina dopo essersi allontanata dalla struttura di recupero per tossicodipendenti del capoluogo nisseno in cui era ospite. Ma non è questo il suo unico guaio visto che attualmente è imputata davanti al tribunale di patti con le accuse di avere maltrattato i genitori ed avere storto loro del denaro. Una vicenda di profondo disagio quella che emerge dalle carte processuali. Secondo l'accusa la 36enne negli ultimi due anni aveva avuto un atteggiamento di disprezzo quasi totale verso i genitori i quali soffrono di alcune patologie. Più volte l'imputata, sempre secondo l'accusa, ha chiesto loro del denaro per acquistare gli stupefacenti e sarebbe arrivata ad aggredirli in caso di rifiuto. Una vicenda che, stando ai capi di imputazione, va avanti da oltre due anni. Recentemente la giovane era entrata in una comunità di recupero nissena ma lo scorso 20 settembre si era allontanata interrompendo il programma di riabilitazione. Ed allora il tribunale di patti ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere eseguita, come detto, dai carabinieri di Caltanissetta. Gela, una casa di riposo è stata chiusa dai carabinieri del nucleo antisofisticazione di Ragusa, avrebbe esercitato abusivamente la propria attività. Una casa di riposo di Gela è stata chiusa dai carabinieri del nucleo antisofisticazione di Ragusa in quanto avrebbe... Il questore Emanuele Ricifari ha conferito una ricompensa all'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Caterina Miceli per aver evidenziato spiccate doti di umanità. Spirito di servizi è particolare zelo nell'iniziativa a sostegno della raccolta benefica di fondi destinati alla ricerca del neuroblastoma, conseguendo un risultato così meritorio da essere segnalata all'Europea Neuroblastoma Association Ollus, con una nota di ringraziamento a firma del suo presidente. L'attività, posta in essere dalla dipendente, ha conferito lustro all'istituzione e ha contribuito ad acquisire un risultato meritevole di ricompensa. La raccolta fondi effettuata in questura dall'assistente Miceli in occasione della Pasqua 2022 ha infatti consentito di donare una cospicua somma di denaro all'associazione, contribuendo alla ricerca scientifica sul neuroblastoma. E adesso parliamo della processione di San Michele, massiccia partecipazione di Nisseni. E gridammo tutti, viva o principi San Michele Arcangelo. Con queste parole simbolo e molto toccanti, gridate all'unisono dai portatori e devoti del Santo Patrono, è iniziata la processione solenne, dopo la Santa Messa celebrata dal Vicario Generale Monsignor Onofrio Castelli. Una caltanissetta vestita a festa, con tantissime persone che si sono riversate davanti la cattedrale e poi lungo il centro storico, aspettando il passaggio di San Michele nel classico giro tra Corso Umperto, Santa Lucia, Via Maddalena Calafato, con la sosta vicino Piazza Mercato per i consueti fuochi d'artificio, Corso Vittorio Emanuele e poi il rientro in cattedrale. Molto toccante la devozione dei portatori che a piedi nudi hanno portato il fercolo di San Michele con storie che si tramandano di generazione in generazione, di persone devote a San Michele che, come ogni anno, aspettano con grande fermento questo giorno. Adesso la data cerchiata sul calendario è quella dell'8 maggio, dove dalla cattedrale verrà portato per due settimane a San Michele. Queste date sono legate tradizionalmente alle due apparizioni del Santo Patrono avvenute l'8 maggio 490 e il 29 settembre 492, dove si svolgono a maggio la ricorrenza e l'apparizione e il 29 settembre la festa patronale. La celebrazione cittadina prevede la sfilata di alcuni bambini vestiti come il Santo, che precedono il fercolo seguita dai fedeli, anche loro a piedi nudi, che per grazia ricevuta esprimono la loro devozione. Caltanissetta ha festeggiato il suo patrono e si affida a lui per il suo futuro. Rappresenta un momento di festa tra il cielo e la terra, noi che siamo pellegrini su questa terra abbiamo bisogno di essere orientati verso il cielo e il nostro San Michele, con la sua bellezza, la sua giovinezza, con le sue ali, ci invita a spiccare il volo, a riprendere quota, dopo questo periodo, ben due anni che non facciamo processione, e quindi siamo chiamati a prendere il volo sia come cittadini, soprattutto come cristiani, con i piedi per terra ma con il cuore sempre rivolto verso il cielo, contro le forze del male da mettere sotto i piedi, proprio per assaporare il paradiso. La devozione parte da piccolino, quando vedevo sfilare questa processione, il santo patrono di Caltanissetta, già l'idea era quella di essere un portatore di San Michele e circa dieci anni fa sono riuscito in questa impresa, perché non è facile inserirsi in questi gruppi. È una cosa molto bella che si poi tramanda da padre in figlio e quindi speriamo che poi anche i miei figli saranno dietro me con San Michele. E proprio in onore del santo patrono della città di Caltanissetta, San Michele Arcangelo, è stato realizzato un tappeto di sale all'interno della cattedrale. In realtà le opere sono due. Spiccano l'azzurro e il dorato dell'armatura nel tappeto di sale che è stato realizzato proprio nel giorno del santo patrono dall'ufficio di Ocesano Migrantes insieme ad alcuni migranti e che raffigura San Michele Arcangelo, una vera e propria opera d'arte composta da piccoli granelli di sale colorati disposti con grande maestria e che è stato collocato proprio nella cappella dedicata a San Michele all'interno della cattedrale Nissena, in quella che si trova dall'altro lato dell'altare, e cioè la cappella della Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II, ne è stato realizzato un altro, raffigurante lo stemma dell'ufficio Migrantes. I migranti che risiedono stabilmente a Caltanissetta, ma quelli che anche sono di passaggio, sono cittadini nisseni a tutti gli effetti, anche se magari per un breve periodo, e quindi con loro abbiamo voluto rendere omaggio al santo patrono. Abbiamo realizzato un disegno di San Michele che è ripreso da una vetrata molto colorato, quindi anche per dare quest'idea di una società sempre più a colori. E poi il logo della Migrantes, che rappresenta la Maria Giuseppe e Gesù che sono migranti in Egitto. In realtà doveva essere fatto sullo stile delle infiorate davanti proprio alla chiesa e San Michele sarebbe dovuto passare sopra queste immagini, ma a causa del maltempo le abbiamo realizzate all'interno. È una tecnica molto semplice, economica, quindi non c'è nessun tipo di spreco, perché comunque cerchiamo anche di stare attenti a queste cose, anche se siano scelte sostenibili. Un'attività questa che rientra nel programma di costruire il futuro con i migranti e i rifugiati, e che si concluderà il 3 ottobre. C'è tanta partecipazione da parte delle comunità straniere, e anche i nisseni un po' si avvicinano curiosi. Speriamo di vederne sempre di più nei prossimi giorni. Aggiudicata la gara per i lavori di potenziamento di due arterie stradali fondamentali e strategiche per i cittadini dei piccoli centri del Vallone e di numerosi centri nisseni. La strada provinciale 112 dell'Andro e la strada intercomunale numero 3 di Borgo Vicaretto, che collega Villalba con Resuttano, e successivamente con l'autostrada A19 per Palermo. I lavori riguarderanno una manutenzione straordinaria dei tratti di strada più pericolanti per un totale di 300 mila euro e dovrebbero partire già nelle prossime settimane. E adesso parliamo della manifestazione di legambiente realizzata in 12 comuni siciliani. La carovana dell'economia circolare arriva anche a Caltanissetta. Hanno piantato delle piccole piantine in vasi colorati e realizzato dei lavoretti con la pasta e altri materiali riciclabili i quali hanno dato una nuova vita e bambini che hanno partecipato alla manifestazione di legambiente in piazza Garibaldi. Proprio vicino alla fontana del Tritone, tra la cattedrale e la chiesa di San Sebastiano, infatti, sono state allestite le tre aree, quella del dibattito, del baratto e del riciclo, grazie alla carovana dell'economia circolare di legambiente. Nelle due giornate di oggi e di domenica si svolgerà anche l'iniziativa Puliamo il mondo, coinvolgendo le scuole secondarie, ma anche gli enti e i cittadini. Le due campagne che abbiamo unito, quella della carovana dell'economia circolare, per valorizzare esempi di economia circolare, la campagna storica di legambiente Puliamo il mondo, che è arrivata alla trentesima edizione. È un momento di riflessione della qualità. Andando che al tenistetto ha superato il 60% della raccolta differenziata, però dobbiamo ancora lavorare molto sulla qualità. Alcune cose buone le registriamo. Fino a qualche anno fa entravamo in una classe, o veniva come questa mattina, stanno venendo delle classi a visitare la carovana, chiedevamo quanti in famiglia facciamo la raccolta differenziata, alzano la mano tre, quattro bambini. Ora devo dire che sono il 90% dei bambini di ogni classe che fanno la differenziata. E questo è un dato positivo. Dobbiamo molto lavorare ancora sulla qualità. Bisogna togliere di mezzo la plastica. I comuni, le scuole dovrebbero attrezzarsi per togliere di mezzo la plastica. Quindi la qualità dell'organico è importante perché l'organico lo mandiamo alla SNAM, a Grotta Rossa, e produciamo biometano. Quindi ecco, spazi di miglioramento molto. È una bella iniziativa questa di questi giorni perché mettiamo in rete tanti attori e ora domenica andremo, anzi invitiamo i cittadini, venire domenica mattina a ripulire insieme a noi alcune strade. In particolare la SS640, alle ore 11 saremo sulla SS640 che sarebbe la Caltanissetta Grigento, mentre alle ore 9, quindi prima, saremo sulla SP2, una strada provinciale vicino al bivio del Borgo Santarita. Chi vuole venirci a aiutare, ci saranno mezzi, guanti e quanto serve per ripulire e rimuovere in maniera straordinaria queste discariche abusive. L'obiettivo è quello di creare una sinergia tra gli anticoinvolti, ma anche chi gestisce il servizio della raccolta rifiuti, creando un tavolo per poter discutere delle problematiche. Vedere le discariche abusive lungo le strade non può esistere, bisogna mettersi attorno a un tavolo e devo dire che questo tavolo stiamo riuscendo a farlo e quindi però non ci siamo riusciti entro giorno o due, lo faremo dopo. La prefettura era molto contenta di questa iniziativa e quello è l'obiettivo vero, cioè ognuno deve fare qualche cosa. Un presidio strategico per monitorare costantemente la qualità dell'acqua immessa in rete e più in generale dell'intero servizio idrico. Adesso per il Laboratorio Acque Potabili di Caltacque è arrivata l'ulteriore estensione delle prove accreditate che da 5, torbidità, pH, conducibilità e scherichiacoli coliformi totali passano a 7. L'ampliamento dell'accreditamento riguarda infatti anche i microorganismi vitali a 22 gradi e 37 gradi e gli enterococchi. L'estensione dell'accreditamento, come era già accaduto due anni fa per gli altri parametri, è stata firmata da Credia, l'ente unico nazionale di accreditamento, designato dal Governo italiano che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. E adesso cambiamo ancora una volta argomento, parliamo della Croce Rossa Italiana, 21 volontari abilitati a soccorso in ambulanza, previsto anche un esame sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Sono 21 i volontari della Croce Rossa Italiana che ieri nella sede della Sala Formazione del Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa hanno superato gli esami di abilitazione del corso per soccorritori in ambulanza. Grande attività della Croce Rossa Italiana nella formazione, anche questa volta abbiamo formato i nuovi 21 operatori che potranno svolgere servizi di ambulanza e di soccorso sanitario a favore della popolazione, a favore delle pubbliche amministrazioni che richiedono il nostro intervento con grande professionalità e soprattutto grande voglia di mettersi in gioco per tutte le necessità che ci sono in questo ambito. Croce Rossa è sempre al top per quanto riguarda la formazione e del suo personale è sempre all'avanguardia per quanto riguarda le nuove normative e le nuove tecniche di soccorso. Coordinatore della formazione è stato il direttore Andrea Giovanni Cocita, una commissione esaminatrice ha valutato gli esiti della prova giunta a conclusione del percorso formativo. Gli istruttori hanno seguito i volontari per le 180 ore del corso di formazione e più di 30 ore sono state svolte in affiancamento agli equipaggi completi in servizio in eccedenza del 118 delle assistenze sanitarie con ambulanza. Per superare l'esame di verifica bisognava affrontare sia la parte teorica con una prova scritta che prevedeva 60 acquisiti a risposta multipla ed una tecnico pratica sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sulla conoscenza dei presidi di emergenza presenti sulle ambulanze oltre alla conoscenza delle manovre di immobilizzazione e trasporto in emergenza. Contributi per un milione e mezzo di euro dalla regione siciliana alle scuole dell'infanzia paritarie per fronteggiare i mancati pagamenti delle rette in seguito alle chiusure per l'emergenza Covid nel 2020. Le scuole beneficiarie sono 182 così ripartite per provincia 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 28 a Catania, 18 a Messina, 103 a Palermo, 6 a Ragusa, 14 a Siracusa e 8 a Trapani. E adesso parliamo del Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo a Terra Madre e la manifestazione internazionale giunta alla 14esima edizione. Il Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo è arrivato a Terra Madre al Salone del Gusto, tema della 14esima edizione Il cibo come strumento di rigenerazione della società. Alla manifestazione hanno preso parte 3.000 delegati di 150 paesi. Circa 350.000 sono stati visitatori che hanno partecipato ai 700 eventi in programma. Per tutti e 5 i giorni nel padiglione dedicato alla Sicilia è stato trasmesso il video Aspettando Terra Madre, oggi visibile anche sul web, della durata di circa 10 minuti. Valore di questo video 10.000 euro finanziato con il progetto Mediterranean Diet When Brands Meets People. L'obiettivo della partecipazione del Comunical Trenset al Salone Terra Madre di Torino era proprio quello di promuovere a livello internazionale il territorio della Sicilia, della Sicilia centrale, del Nisseno, della nostra città e soprattutto lanciare la grande iniziativa del primo parco mondiale dello stile vita mediterraneo, obiettivi pienamente raggiunti attraverso le giornate che si sono susseguite al Salone del Gusto. La presentazione del parco è stata molto partecipata soprattutto dai presidi siciliani Slow Food e alla presenza dei vertici nazionali di Terra Madre. Infine una parentesi è stata dedicata anche all'Università di Pollenzo, l'Università Slow Food che prepara classi di ragazzi provenienti da tutto il mondo sulla gastronomia. Così dal 22 al 26 settembre al Parco Loria di Torino sono arrivate le storie di chi ha scelto di restare per generare sviluppo. Il racconto del territorio e dei sapori tra tutti, il torrone nisseno che ha conquistato chi lo ha assaggiato durante la manifestazione. Sono 108 i comuni siciliani con meno di 10.000 abitanti interessati al finanziamento dei cantieri di lavoro per i disoccupati. Tante sono le stanze presentate dalle amministrazioni locali in risposta all'avviso del Dipartimento regionale del lavoro dello scorso 23 agosto. Chiusi termini fissati è stato pubblicato l'elenco provvisorio delle stanze ricevute. I comuni che riscontrino esclusioni o errori materiali possono presentare una richiesta di riesame al Dipartimento entro sette giorni dalla data di pubblicazione. Poi si provvederà alla redazione dell'elenco definitivo. I cantieri di lavoro sono stati finanziati con 5 milioni di euro dalla Regione siciliana con la legge regionale numero 16 del 10 agosto 2022, variazioni di bilancio. i finanziamenti saranno concessi a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stanze nella misura di un cantiere per ogni comune. L'elenco provvisorio dei comuni che hanno presentato la manifestazione di interesse sul sito della Regione. Il Pietrarossa Bellini Music Festival, un mese di eventi, più di un mese di eventi, tra concerti e masterclass fino al 14 ottobre. La musica è stata la protagonista del Pietrarossa Bellini Music Festival organizzato in città dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Nisseno con la direzione artistica del maestro Michele Mosa. Più di un mese di eventi, tra concerti e masterclass che proseguiranno fino al 14 ottobre. La seconda inizione del festival, in continuità con la prima, ma in uno scenario diverso perché finalmente non ci sono più i timori della pandemia che c'era nella prima edizione che abbiamo fatto con grandi timori ma che è riuscita benissimo. Abbiamo avuto Previn Jajkowski, Dmitri Maslejev, Nina Kotova, il violongello, il tre archi del Berliner, tenori di fama internazionale con il maestro La Spina. Questi artisti sono stati docenti dei nostri allievi perché l'attività parte sempre per le master dei nostri allievi che sono dei corsi di specializzazione intensivi per loro che permettono di confrontarli con realtà musicali di grandissimo prestigio e di grandissimo rilievo. Artisti che hanno trovato la nostra popolazione studentesca assolutamente adeguata, assolutamente in linea con quelli che sono i migliori livelli accademici di tutta Europa. Abbiamo offerto questa rassegna importante alla città e soprattutto alla musica d'autore a Caltanissetta. Il riscontro a livello nazionale e internazionale l'istituzione ce l'ha e di questo siamo molto soddisfatti. E' una piccola punta di amaro, la devo dire purtroppo sulla popolazione della città, che risponde poco. Noi abbiamo un pubblico che viene prevalentemente da tutte le parti della Sicilia, addirittura anche dell'Italia, prendono l'aereo per venire a vedere i nostri concerti e vediamo i cittadini scarsamente reattivi. Questo è un peccato perché sono occasioni infungibili di cui la cittadinanza dovrebbe fluire. Però il nostro ruolo è principalmente di formazione e quel che conta è che i nostri studenti sono molto soddisfatti, anzi sono molto felici di tutto questo e il nostro obiettivo è proiettarli verso obiettivi sempre maggiori e soprattutto rendere l'istituzione al centro del loro futuro anche dopo il rilascio del titolo di studio di secondo livello. Proprio agli studenti è stata dedicata una rassegna concertistica denominata i colori del talento. Tra i prossimi appuntamenti dell'istituto ci saranno il 3 ottobre al Teatro Regina Margherita evento spostato di data e location a causa del tempo incerto il concerto dell'orchestra di fieti diretta dal maestro Angelo Licalsi, il 5 il concerto del Dipartimento di Ottoni con il maestro preparatore Giacchino Giuliano e soliste Emanuel Richter nell'atrio del Palazzo del Carmine, il 12 ottobre alla Curia Vescovile il concerto degli alunni di ottone sezione grave diretta dal maestro Corentin Morvan, il 14 invece a Santa Maria degli Angeli il concerto del Dipartimento di Archie con diversi solisti e con i maestri preparatori Marco Traverso e Raffaello Pilato mentre il direttore il maestro Davide Galaverna. Sabato 1 e domenica 2 ottobre molte piazze si colorano di rosso, giallo e verde sono le mele dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla che i volontari distribuiranno in tutta Italia anche nelle piazze di Caltanissetta e Gela, nel capoluogo Nisseno in piazza Falcone e Borsellino, nella città del Golfo lungo le piazze Umberto I e San Giacomo, a lungomare Federico II e presso i Muretti di Macchitella. L'evento ritornerà in piazza anche il 4 ottobre per la Giornata del Dono, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà. Andiamo allo sport. Nista Rugby, campionato al Via il 9 ottobre ma senza campo. Gli allenamenti si svolgono presso il Polivalente Amari di Via Portella della Ginestra. Nista Rugby a lavoro in vista dell'inizio della nuova stagione agonistica, ma con un solo neo. La rappresentativa nissena non può ancora utilizzare lo stadio Marco Tomaselli di Contrada Pian del Lago, visto che i lavori di posa del manto in erba sintetica non sono completati a causa dei disguidi legati al tracciamento delle linee di delimitazione. E per questo motivo la squadra sta utilizzando il campetto Polivalente Michele Amari di Via Portella della Ginestra. La squadra maschile esordirà il prossimo 9 ottobre nel campionato di Serie C sul campo del Ragusa. Attesa anche per la formazione femminile che disputerà la Coppa Italia di Rugby a 7. La squadra rosa della Nista Rugby ha nel frattempo stipulato un accordo con il Ragusa che milita nella Serie A di Rugby a 15. E negli intenti della dirigenza nissena ciò dovrebbe permettere alle atlete di alzare il loro tasso tecnico e di esperienza. Naturalmente continua a tenere banco la questione Tomaselli e la dirigenza della Nista Rugby ha manifestato preoccupazione qualora i lavori non dovessero concludersi entro l'inizio del campionato in quanto la squadra resterebbe senza campo da rugby. In ogni caso i dirigenti nisseni auspicano che la situazione possa risolversi rapidamente per dare il via nel migliore dei modi alla stagione agonistica. Passiamo al calcio Serie D verso il derby San Cataldese Canicattia al Mazzola domenica terza giornata di campionato. Neppure il tempo di assaporare la gioia del primo successo della stagione ottenuto sul campo del Cittanova in Calabria e la San Cataldese si prepara nuovamente a affrontare un impegno di campionato, il terzo. Il calendario del Girone I di Serie D propone per domenica 2 ottobre San Cataldese Canicattia fischio d'inizio alle ore 15, un derby sentito ma caratterizzato da una lunga amicizia tra le due tifoserie unite da un gemellaggio trentennale. Per i Verdi Amaranto il prossimo obiettivo si chiama adesso prima vittoria casalinga e i presupposti ci sono tutti perché la squadra allenata da Matteo Vullo sembra attraversare un ottimo momento dopo l'opaco esordio al Mazzola con il Sant'Agata così il capitano della San Cataldese, Salvatore Di Marco, sulla pagina Facebook Verdi Amaranto. Un derby, sarà una bella partita, penso che ci sia pure anche una bella cornice di pubblico e noi cerchiamo di continuare a dare questi risultati positivi e fare la nostra partita e cercare di portare altri tre punti a casa. Il quadro completo delle partite della terza giornata Cireale, La Mezzia, Trapani, Paternoli, Cata, Catania, Santa Maria, Cilento, Sant'Agata, Ragusa, Locri, Realla Versa, Cittanova, San Luca, Mariglianese, San Cataldese, Canicattì, Vibonese, Castrovillari. Eccellenza, Nissa Parmonval, i biancoscudati puntano alla prima vittoria dopo il pari in Coppa Italia con l'Akragas. Fischio d'inizio alle 15.30 al campo sportivo Palmintelli di Viale della Regione. Archiviato il pari in Coppa Italia con l'Akragas, la Nissa torna a respirare aria di campionato. Domenica la squadra biancoscudata sarà chiamata a giocare con la Parmonval per la quarta giornata del campionato di eccellenza Girone A. I Visseni, che finora non hanno mai vinto nel realizzato un gol racimolando appena un punto, scenderanno in campo ancora una volta per tentare la via del successo. Ma l'impresa non si preannuncia tra le più agevoli contro la Parmonval che vanta quattro punti all'attivo frutto di una vittoria e un pareggio. Il quadro completo delle partite della quarta giornata. Casteldaccia-Akragas, Don Carlo Misilmeri-Gela, Enna-Cus-Palermo, Leonfortese-Mazzarese, Mazzara-Profavara, Nissa-Parmonval, Resuttana-San Lorenzo, Castellammare, Sciacca-Oratorio-Santiciro e Giorgio. Bene, anche per oggi dunque è tutto. Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale. Intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito. Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. Una zona di bassa pressione lentamente si sposterà verso Levante e abbandonerà l'Italia entro domenica. Nella prima parte di sabato ancora un po' di stabilità però sull'Italia. Poi spazio a questo campo di alta pressione che da domenica in avvio di settimana dalla Spagna raggiungerà le nostre regioni. Nel dettaglio possiamo notare il tempo ancora a tratti incerto al centro-sud con rischio precipitazioni entro la serata. Bel tempo. Al nord invece una situazione decisamente più stabile e soleggiata rispetto alle giornate precedenti molto temporalesche. Nel dettaglio ecco l'immagine dell'Italia. Bel tempo al nord, variabilità in mattinata ancora al centro Italia con gli ultimi piovaschi, poi i rasserenamenti dal pomeriggio. Al sud invece linea instabile con rovesci a sfondo temporalesco. Eventi che saranno sostenuti di maestrale. Difatti le temperature saranno in lieve flessione sulle regioni meridionali. Dettagli maggiori e approfondimenti sulla po' gratuita di Trabi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, San Pio X, Via Napoleone Colaianni, Servizio notturno, Buonasera, Via Edmondo De Amicis.